Un buongiorno a voi tutti in ascolto. Il testo della meditazione mattutina quest'oggi è tratto da Isaia 56 ai versetti 6 e 7. E i figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa d'orazione. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. All'interno di questo importante capitolo 56 sono contenute delle profezie molto importanti appunto e molto fondamentali per quanto riguarda l'estensione della salvezza a tutto il mondo. Quell'universalismo di cui Gesù Cristo stesso si fa il promotore al momento dell'ascensione, come leggiamo nell'ultimo capitolo del Vangelo di Marco, quando dà il comando di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo a tutti i popoli. Adesso questo universalismo viene visto sotto una luce particolare, quella di essere servi del Signore e osservare il sabato. Che cosa ci vuole dire? Infatti il testo biblico con essere servi del Signore. Essere servi del Signore significa riconoscere che noi siamo chiamati con il suo nome. Un tempo infatti i servi venivano semplicemente etichettati sulla base del nome del casato del loro padrone. Ora noi nel battesimo siamo uniti alla vita divina di Dio e siamo chiamati proprio con il suo nome. Infatti veniamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ed è dunque il nome della Santissima Trinità a dimorare in noi e dimorando in noi portiamo molto frutto, come ci ricorda Gesù. Che Dio si faccia chiamare il Dio di Abramo, di Sacco e di Giacobbe significa anche e soprattutto questo, che è il Dio di me, di te in ascolto, ognuno con il proprio nome inserito nel suo nome. Quindi questo inserimento è doppio, siamo noi inseriti nel nome di Dio e il nome di Dio in noi. Questo rapporto molto intimo è un rapporto basato sull'amore, sulla fiducia e come ogni persona che viene amata e rispettata è sicuramente ascoltata nella sua volontà ed è necessario pertanto che la nostra volontà si conformi alla sua, specie su un comandamento importante come quello del sabato, il quarto comandamento. Non è infatti un caso che il riferimento al sabato qui ci ricordi che anche agli stranieri è rivolto questo comandamento della legge universale di Dio anche ai gentili che si sono uniti agli ebrei. Non era dunque un comando solo per gli ebrei ma per tutta la Chiesa universale che nel futuro sarà ormai composta senza riguardo più alcuno alla nazionalità o alle usanze giudaiche. E la promessa di Dio proprio per questi, per Costoro che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al patto, quindi rimanere fedeli all'alleanza e questa alleanza è fondata sul sangue di Cristo, allora la promessa rivolta a Costoro è di essere condotti al Monte Santo, un'immagine che indica proprio la Gerusalemme Celeste, Sion, la salvezza e il Tempio Celeste. Infatti li riempirò di gioia nella mia casa di orazione e i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare. Sebbene il profeta parlasse naturalmente in maniera immediata, quindi relativamente proprio agli olocausti e sacrifici effettivi che venivano offerti e che vennero offerti fino alla morte di Cristo, in realtà questa profezia si realizza ancora meglio con la morte di nostro Signore. Infatti alla morte di Cristo poco prima viene instaurata, istituita la legge della nuova alleanza, della nuova ed eterna alleanza, e la transizione tra l'economia giudaica e quella del nuovo patto è segnata dall'istituzione della cena del Signore. Ecco dunque l'olocausto, ecco dunque il sacrificio gradito, offrire tutto se stessi, mediante la trasformazione della propria mente nel sacrificio di Cristo e nutrirsi di Lui, nutrirsi della Sua parola, nutrirsi dei Suoi consigli, delle Suoi esortazioni, pensarlo, cercarlo, desiderarlo, offrire tutta la propria miseria a Lui che ne avrà misericordia e la unirà alla Sua potenza divina, donando successo alla Sua opera. Ancora una volta è l'incarnazione dell'elemento divino in quello umano e in questo scambio, in questo sacrificio, avviene tutta l'essenza della nostra fede, tutta quella grazia, quel rendimento di grazie che ci rende capaci di osservare la Sua legge, sabato compreso. E allora questo sacrificio sarà un sacrificio vivente, santo, gradito e accettevole a Dio Padre Onnipotente, come dice Paolo in Romani 12, 1, e questo sacrificio sarà al meglio vissuto nella cena del Signore, dove avviene l'unione, dove avviene la pace, dove avviene la costituzione del corpo di Cristo per rendere la casa di Dio, cioè la discendenza di Dio, una casa di orazione per tutti i popoli, dove tutti potremo pregare e già possiamo pregare e partecipare assieme a Cristo nel santuario celeste alla preghiera continua che Egli fa per noi. Dunque ecco il messaggio di questo versetto, un messaggio che contiene l'anticipazione della nuova ed eterna alleanza cristiana e che ci dice anche che questa alleanza non sia senza i dieci comandamenti e senza il sigillo di questi dieci comandamenti, ovvero il riposo del giorno di sabato, il settimo giorno. Ed è proprio questo riposo che caratterizzerà all'ultimo i segnati, coloro che sono appunto hanno accettato il sigillo di Dio e coloro che saranno portati alla casa di orazione, al monte santo, al tempio di Dio, come 144.000, come ci ricorda Apocalisse 7 e 14. E questa è la nostra preghiera, che il Signore ci raduni e ci faccia tutti un solo corpo in Lui. Amen.